Oscar l'impennatore Dai vai davanti Ma più che altro Credo perchè la moto non è mia Magari gli scoccia Vabbè non mi dice di no No ma dico che gli scoccia perchè la moto non è mia Vuole che gli riprendano un'impennata di fianco e gli riprendo l'ultima Poi se viene bene sono Oh ma la foto Vai vai Bravo 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti